Albano Carrisi spiazza tutti, mi hanno massacrato, ecco cos'è successo Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle notizie di gossip che riguardano Albano Carrisi e la sua ex compagna Loredana. Il cantautore Salentino non ha apprezzato le ultime esternazioni dell'Alecciso, quindi ha deciso di confidarsi con Roberto Alessi, direttore del magazine Novella 2000. Che cosa ha dichiarato? Nei paragrafi successivi troverete alcuni passi della sua intervista. . Loredana contro Romina Power nelle ultime settimane Albano, l'ex subrette Salentina e la cantante italo-americana hanno alzato un polverone mediatico a colpi di dichiarazioni clamorose. . Giovedì scorso, a pomeriggio 5, Barbara D'Urso è tornata a parlare dell'intervista che il maestro Carrisi ha rilasciato recentemente al periodico diretto da Sandro Maier di Più. . In quell'occasione il cantautore aveva incolpato Loredana di avergli provocato un attacco cardiaco, che l'aveva costretto ad interrompere il suo tour e a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. . Durante la sua convalescenza nell'ospedale Santo Spirito di Roma, l'Alecciso aveva scattato un selfie col compagno, pubblicandolo, successivamente, su Instagram. . Un gesto che aveva fatto infuriare il leone di Cellino San Marco. . Alcuni giorni fa Loredana ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Oggi creando delle nuove polemiche. . Barbara D'Urso, che quotidianamente si occupa del cosiddetto triangolo amoroso, ha mostrato ai suoi telespettatori alcuni passi della conversazione tra l'ex showgirl e il giornalista. . In studio Patrizia Groppelli ha consigliato a tutte e tre di darsi una calmata perché ora si sta superando il limite. . Infatti l'ex compagna del Carrisi avrebbe addossato la responsabilità alla sua rivale, Romina Power, di essere lei l'unica responsabile dell'infarto che ha colpito Albano. . . L'intervista telefonica di Albano con Roberto Alessi. . Il cantautore Salentino, dopo l'esternazioni dell'Alecciso, ha cambiato completamente atteggiamento rilasciando interviste a chiunque. . Ieri Albano è stato raggiunto telefonicamente dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. . Il cantante, che per il momento si trova a Mosca col figlio Iari, ha svelato di essere stanco di vedere il suo nome sulle riviste di Cancelletto Gossip. . Mi stanno davvero massacrando, non c'è più rispetto, ha dichiarato il Carrisi. . Inoltre quest'ultimo ha espresso tutto il suo risentimento verso quelle persone che giudicano la sua famiglia, senza conoscere veramente come sono andate le cose. . . Per conoscere altre informazioni su questa vicenda, vi consigliamo sì cliccare sul tasto Segui canale Gossip. .